Ciao a tutti e benvenuti su About Biology. Nello scorso video avevamo trattato di temperatura e accennato al fatto che esistono tre scale di temperatura attualmente utilizzate. Le loro unità di misura sono i gradi Fahrenheit, i gradi Celsius e i gradi Kelvin. La scala Fahrenheit, che è la più utilizzata nei paesi anglosassoni al di fuori di ambienti di laboratorio, definisce le temperature alla pressione atmosferica di congelamento e ebollizione dell'acqua rispettivamente a 32 e 212 gradi Fahrenheit. La scala Celsius e la scala Kelvin sono invece le scale più utilizzate ed entrambe sono scale centigrade. La scala Celsius divide l'intervallo tra la temperatura di congelamento e di ebollizione dell'acqua in 100 gradi. La scala Kelvin, unità fondamentale del sistema internazionale della temperatura, è la scala assoluta di temperatura. Per assoluta intendiamo che lo zero sulla scala Kelvin è la temperatura più bassa che teoricamente possa essere raggiunta e questo corrisponde a una temperatura di meno 273.15 gradi centigradi. Una cosa importante è che mentre un grado sulla scala Celsius ha lo stesso valore di un grado nella scala Kelvin, non è così per i gradi Fahrenheit. Un grado sulla scala Fahrenheit corrisponde infatti a 5 noni di un grado sulla scala Celsius. Se vuoi infatti convertire i gradi Fahrenheit in gradi Celsius dobbiamo scrivere questa equazione. Se invece vuoi convertire i gradi Celsius in gradi Fahrenheit dovrai allora seguire quest'altra. Come abbiamo detto, la scala Celsius e quella Kelvin hanno una unità di misura di uguale grandezza, cioè un grado Celsius equivale a 1 Kelvin. E visto che abbiamo detto che lo zero assoluto sulla scala Kelvin corrisponde a meno 273.15 gradi Celsius, possiamo usare la seguente equazione per convertire in Celsius i gradi Kelvin. Benissimo, sulle scale abbiamo quindi detto tutto. Adesso facciamo un po' di pratica con le conversioni. Supponiamo di voler convertire in gradi Celsius 68 gradi Fahrenheit. Andiamo ad applicare quindi la nostra equazione di conversione, ovvero che una temperatura in gradi Celsius equivale a una temperatura in gradi Fahrenheit meno 32, tutto questo diviso 1.8. Abbiamo che 68 meno 32, tutto diviso 1.8 è uguale a 20 gradi Celsius. Applicando le altre equazioni di conversione è possibile passare da una scala all'altra, ma quello che facciamo più spesso solitamente è la conversione da gradi Celsius in Kelvin. E abbiamo detto che se vogliamo capire a quanti gradi Kelvin corrispondono, mettiamo 50 gradi Celsius, dobbiamo utilizzare questa semplice equazione. Dato che vogliamo arrivare ai gradi Kelvin, dovremmo aggiungere semplicemente ai nostri 50 gradi Celsius 273.15 gradi Celsius. Dato che il rapporto tra un grado Kelvin e un grado Kelvin e un grado Celsius è uguale a 1. E questo significa che facendo questa somma 323.15 gradi Celsius per il rapporto tra un grado Kelvin e un grado Celsius ci permette di avere 323.15 gradi Celsius. Chiaramente quando andate a utilizzare questa formula all'interno degli esercizi non stiamo a fare tutto questo ragionamento con i gradi Kelvin e il loro rapporto, ma andate soltanto ad aggiungere il numero 273.15 a questo numero, ovvero al numero di gradi Celsius che avete da convertire. Se invece volessimo fare la cosa opposta, ovvero trovare quanti gradi Celsius corrispondono a 50 gradi Kelvin, dobbiamo semplicemente sottrarre a questo numero 273.15. Quindi otteniamo, senza fare tutto il procedimento di prima, che 50 meno 273.15 equivale a meno 223.15 gradi Celsius. Può sembrare un numero molto basso, ma se pensiamo che a 0 gradi Kelvin, togliendo questo 5 quindi, otteniamo per definizione meno 273.15 gradi Celsius. Benissimo, detto ciò si conclude questo approfondimento sulle scale di temperatura. Come al solito ti consiglio di iscriverti al canale per restare aggiornato sui prossimi contenuti e inoltre se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo biologico e scientifico seguici su Instagram e Telegram. Hai il link che trovi qua sotto in descrizione. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto da About Biology. Grazie per l'attenzione e a presto.